Uno scambio di informazioni, in questo caso davvero preziose, attraverso un gruppo Whatsapp. Arriva anche ad Arezzo, infatti, il progetto Gioiellerie Sicure, una rete interregionale nata per prevenire reati di furti e rapine, ma anche truffa ai danni di gioiellerie, commerciali orafe e rivenditori di preziosi. È stata creata in provincia di Bologna, quattro anni fa, vede già duemila aderenti. È d'iniziativa di un privato gioielliere che ha avuto la costanza di creare questa rete per la sicurezza sua e dei propri colleghi. È un gruppo che anche in provincia di Arezzo veicolerà le informazioni di tutto quello che avviene, diciamo di tentativi di furto, di truffe, quello che appunto può succedere di negativo all'interno della propria attività, ai propri colleghi, in un'ottica di prevenzione. Il valore aggiunto di questa chat è che non è di carattere strettamente locale, ma essendo una rete di chat su tutta Italia, questo permette una diffusione più capillare possibile delle informazioni per essere informate le attività del settore. Ogni chat provinciale è un referente, confesercenti poi anche chat regionali e nazionali, a cui partecipano i vari referenti che veicolano eventuali informazioni tra le chat provinciali. È non vergognarsi di quello che si è successo, ho visto anche nel mio caso mi è successo un furto con destrezza e lì per lì era tanta la vergogna di essersi, di essere truffato. Quindi invito tutti i miei colleghi a essere inseriti all'interno di questa chat. Naturalmente ci sono delle regole rigide da seguire, come abbiamo detto prima, cioè a politico non c'è costo, non ha costo, non vengono mai inserite pubblicità all'interno della chat e verificare i propri dati, perché ovviamente è una chat di solo nei gioiellieri.